Pongo quindi in votazione la risoluzione Foti Molinari-Barelli-Lupi 6.108 accettata dal Governo. Ricordo che in caso di approvazione di tale risoluzione ai sensi dell'articolo 118 bis comma 2 del regolamento risulteranno precluse le altre risoluzioni presentate. La votazione è aperta. Dobbiamo soccorrere la deputata Bonafè, ecco il tecnico che si avvicina alla sua postazione. Intanto lasciamo comunque, era già previsto, un pochino aperto il voto perché è l'unica votazione della giornata. Quindi consentiamo a tutti i deputati presenti di raggiungere l'Aula. Nel frattempo la collega Bonafè non è provvista dallo strumento per votare, quindi aspettiamo. Ci siamo. La votazione è chiusa. Presidenti 326, votanti 323, assenuti 3, maggioranza 162, favore 197, contrari 126. La Camera approva. Grazie.